L'elemento di successo per l'allenamento sull'ellittica è il comfort. Andes 6 Ellittica Horizon offre un comfort eccezionale grazie ai pedali più ravvicinati e SQF che offrono un movimento più naturale dei piedi. Ergo Flow. I pedali sono distanziati meno di 10 cm l'uno dall'altro, riducendo lo stress sui fianchi e sulla schiena. I pedali attraverso un cardine permettono ampio movimento per migliorare la circolazione e ridurre la sensazione del piede addormentato, sensazione a volte riscontrata su altre ellittiche. Il movimento del pedale simula una passeggiata o corsa con falcata naturale minimizzando la fatica. Durante la fase del collaudo, questo movimento, chiamato Ergo Flow, è stato preferito ad altri movimenti ellittici per comfort ed efficacia dell'allenamento. L'Andes 6 è unica in quanto è richiudibile con un solo gesto, per una facile collocazione e massimo salvaspazio. È così facile, si può chiudere ed aprire con una mano sola. La console è dotata di interfaccia USB, The Port, che permette agli utenti di connettersi ad un PC per aggiornare i loro programmi di fitness. Gli utenti possono anche inserire dettagli specifici nella console, i Entry, come il loro nome, sesso, età e peso, che aiutano a calcolare le calorie bruciate e verranno visualizzati quando l'utente avvia un programma. Andes 6 offre inoltre numerose opzioni di allenamento con 11 programmi, tra cui la frequenza cardiaca, programmi personalizzabili e 16 livelli di resistenza.